Interpreta Astaru da UFO Robo, Gol3 Eccolo, ragazzi accogliamolo con un applauso Chiaramente si fa ammirare dai nostri giurati Che uno a uno valuteranno I costumi dei nostri partecipanti Vedo tantissime macchine fotografiche Ci sono tantissimi appassionati che vorranno portare il ricordo di questa gara per tutta la loro vita Per forza, direi Benissimo, grazie a Pietro Magoga Che chiaramente esce in grande stile E' bello anche quando si può interpretare il personaggio Adesso andiamo